Un attacco informatico può mettere in ginocchio un paese. L'economia è collegata direttamente alla sicurezza dello spazio cibernetico. Un tema importante che non va sottovalutato, coinvolgendo privato, pubblico e mondo accademico. E' quanto emerso dal rapporto 2013 sulla sicurezza informatica in Italia, realizzato dal CIS dell'Università La Sapienza di Roma. L'idea del rapporto nasce per dare una fotografia di quello che è lo stato della cyber security in Italia, in particolare per quanto riguarda i settori economici che sono particolarmente soggetti e sensibili ad attacchi cibernetici. I dati ottenuti attraverso un questionario mostrano uno spaccato della situazione dai lati positivi, ma con ancora alcune criticità da risolvere. Gli utilities hanno una buona consapevolezza, ottime difese in Italia. La PA dall'altra parte invece sta ancora molto dietro. Tra i soggetti interessati agli attacchi informatici spiccano sicuramente le banche, che i comuni credit si sono attrezzate da anni per contrastare il fenomeno. La cyber crime è un tema critico, estremamente rilevante, che è andato ad accentuarsi negli ultimi anni, con attacchi sempre più sofisticati. Chiaramente le banche sono un naturale bersaglio, in quanto trattano informazioni molto sensibili e rilevanti. Quindi noi ci siamo mossi a partire in maniera sistematica, a partire dal 2009, con l'introduzione di un centro di controllo che noi chiamiamo SOC, e la costituzione di un centro dedicato più specificatamente alla prevenzione del crimine informatico a partire dall'anno scorso.